Buongiorno dottore, mi piacerebbe avere più armonia al mio corpo, tonificare un po' quello che è ridare volume al mio gluteo e togliere un po' di ritenzione idrica. Facile, tutto facile. Quindi dalle prove della paziente che era venuta qualche tempo fa, una ragazza molto carina di anni? 27. 27 anni che non aveva problemi particolari, infatti tutta la discussione è in realtà sul fatto di che cosa potevamo offrire. In realtà ci siamo soffermati su questo intervento qua, lipofili in gluteo, cioè dare volume al gluteo con del grasso, grasso che ce n'era poco, perché vedete che la ragazza non era così, come dire, con tessuto a riposo, ma in realtà abbiamo fatto quindi una liposuzione con il nostro famoso laser, quindi la lipolaser in tutte queste aree, il grasso totale abbiamo messo nei glutei. Lo scopo poi è quello di armonizzare il corpo, ci rivediamo dopo quattro mesi e facciamo un continuino alla fine del nostro più, come dire, tutto il nostro percorso, no? Perché cosa hai fatto dopo aver tenuto la guaina? Ho tenuto la guaina un mese, ho fatto delle sedute di fisioterapia, sono stata a riposo tutti questi mesi. Perfetto, adesso piano piano sta riprendendo tutte le sue attività. Quindi quello che succede è che per ottenere risultati di un intervento di questo genere ci vuole un secondino di tempo, ci vogliono i famosi tre mesi. Ecco, saltiamo di là, mani indietro, mani indietro, ok. Vediamo subito dritto come il corpo è armonico, ma concentriamoci sulla parte che chiedeva, la paziente, lateralmente si vede la proiezione del gluteo, prego, prego, ed ecco che vedete in questa fase qua come c'è una riammonizzazione di tutta la parte glutea. Vediamo anche l'altro lato dove vedete bene il gluteo, come proietta bene rispetto alla... ecco, questo qua è bellissimo perché fa vedere le curve, no? Queste curve del corpo. Quindi direi che il gluteo è venuto molto bene, la paziente, ci ho già detto prima, è soddisfatta, ma diciamo anche a chi ascolta questo video, quindi se sei soddisfatta fai il nostro solito gesto. Grazie mille, un caro saluto a tutti.